... Grazie a tutti. E che se lo devi affaticare? Andrè sanguò. Cinque chilometri. Cinque chilometri. Aspuntato così. Poi dopo prendiamo lo sterrato. È un po' più piccolo. Però si deve fare. Perché se no la ruota io ci sento a terra. Sputa fuori. Sputa fuori. Sputa fuori. no Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. se no ci mandano da fangur di cinti andiamo? ma già ce ne hanno ma incepe in zapropia e ce a spia e ce a spia e ce a spia toatele camera vai toatele camera si te preocupa va ca darita la cinti si 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 10 giorni 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 11 giorni 10 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 giorni